Salve a tutti ragazzi, qui Antonio Cianci, il raccata film per voi. Seguitemi su Instagram, TikTok e Letterboxd per aggiornamenti e altri contenuti che fanno da estensione del mio canale, link in descrizione. E passiamo a Crimes of the Future, il desiderato film di Cronenberg dal 24 agosto nelle sale italiane, i crimini di un futuro che è già tra noi. Una dichiarazione di intenti da parte di un regista e la sua voce si distingue piuttosto chiaramente. Se si va a vedere il film per rimanere intrattenuti dalla storia, non è questo il caso. Ammetto di aver avuto difficoltà nel comprendere dall'incipit questo film, ma una volta intercettato il meccanismo e il world building che si genera spontaneamente e con numerosi spunti stimolanti, il film acquista una sua dimensione. Stiamo parlando della nuova frontiera delle performance artistiche. Non c'è più nessuna novità in questo scenario desolante, decadente, non curante dell'umanità da preservare. Allora cosa rimane? Il corpo martoriato, usato, ricostruito grazie a macchinari che ci lacerano e ci studiano minuziosamente non appena apriamo il nostro torace, perché le emozioni ormai devono essere trasmesse in questo modo. Si deve andare oltre il mettersi a nudo, oltre questo concetto figurato, per sposare completamente la poetica di Cronenberg. Ovviamente qui si deve far fronte ad una fase che potrei definire conclusiva del viaggio intrapreso da Cronenberg. Avevo realizzato una retrospettiva riguardante la configurazione della carne, lascerò nelle schede, la carne che si presta ad una nuova religione, che annienta il raziocinio, il codice morale, il buonsenso. Una formula che sì, si ripete in Crimes of the Future, ma non si può non notare un regista che è sul punto di non riuscire più a comunicare tramite la sua cinepresa, tanto da lasciarsi andare e farsi annientare da letti organici e strumenti di torture tra le più richieste. Non rimane niente. Il mondo è asettico, sconnesso totalmente. I personaggi vagano senza meta e vengono guidati solo dalla passione carnale per una fase premorte. Una riscoperta dei nostri sensi ormai deperiti, riscoperta questa attuata tramite lo stimolo del dolore. Tagliarsi qui vuol dire procurare del piacere, Visitare i nostri organi significa mostrare il nostro foglio bianco sulla quale qualsiasi persona può metterci mano e modificarci. Quindi ci svendiamo, sostanzialmente. La storia, impostata in questo modo, è per forza il grido disperato di un autore che presenta questo film a Cannes per riportare la sua disfatta artistica. Viggo Mortensen, poi, e Lea Sidu, sono le voci della coscienza di Cronenberg, non più in grado di affermarsi come talenti veramente seguiti e acclamati. Qualcuno mi potrebbe dire che si parla troppo in questo film, che è ricco di concetti spiegati per filo e per segno, senza una trama che possa proseguire e con una chiusura efficace. Ecco, a differenza però di Man e X, già trattati in questo canale, che pretendono di essere elevati e cercano in tutti i modi di farsi capire anche dallo spettatore più attento, e risultando poi forzato nell'insieme, Crimes of the Future se ne sbatte altamente di chi vi si approccia a quest'ultima opera di Cronenberg e con quali aspettative. Nel descrivere un mondo alla deriva, che può rimanere ammaliato solo da nuovi martiri che difendono cause svalutate già in partenza, dimenticate dalla massa, Cronenberg interviene in prima persona, visita le performance dei suoi attori, tenta di spogliarsi di colpe e rimorsi e si affida ad un nuovo culto, che non considera più gli esseri umani come specie dominante, ma al loro posto ci sono creature per metà sintetiche e metà organiche, con un apparato riproduttivo e digestivo completamente rinnovati, così da prendere le distanze dall'apatia e dall'indifferenza dilagante. Le inquadrature sono per lo più glaciali, i colori mai caldi e lontani dall'essere accomodanti. Gli interpreti principali sanno già dall'inizio che non dovranno essere chiari nell'esposizione, si piegano per quel poco che si vede agli spettacoli cruenti e espliciti, la chirurgia è il nuovo sesso e solo affidandoci alla chirurgia abbiamo diritto alla parola. E quando prendiamo parola, quello che esce fuori è fumoso, poco impattante, si parla un po' per tenderci la mano, un po' per esaminarci in una maniera che è del tutto obsoleta, perché si è ossessionati dagli organi esposti e che raccontano più del nostro background. Il film è decisamente ricco di contenuti, non si vuole interessare sul serio al fattore shock da riservare al pubblico, né ci si gonfia il petto dietro le quinte per attirare l'attenzione. Ci ho visto, in verità, qualcosa di autentico, originale, stimolante per quel che riguarda l'attaccamento materiale alle persone. O comunque un rinnovamento dell'ottica di Cronenberg, però con un progetto anticlimatico, regalandoci un paradosso che trova una sua sistemazione in un cinema che, secondo lui, non ha molto da raccontare. Poi ci sono musiche ridotte al minimo, l'ambientazione parla da sé, le battute sono un tentativo di donare musicalità ad una realtà che di armonioso non ha nulla e il messaggio che ne viene fuori è ben disteso, strutturato, per rendersi conto che Cronenberg non è mai sparito dalla circolazione e non si è mai adagiato. Non dico che è assolutamente grandioso e devo per forza gridare al capolavoro della vita, però è stato molto interessante visitare dei set fatiscenti e che riguardano una mentalità di un collettivo che è prossimo a crollare. Qui è Antonio Cianci, il recatafilm ha finito con la recensione in anteprima di Crimes of the Future, fatemi sapere se lo attendete sotto nei commenti, vi aspetto, lasciate un like, un feedback, seguitemi sugli altri social e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti, alla prossima!